Allora, giovani amici di Facebook, visto che mi è arrivata la iCam 2, la nuova camera di Xiaomi che tra l'altro, come raccontavo sul mio profilo, ha completamente tolto il marchio Xiaomi ma per le camere usa solamente questo I, appunto YI, questo nuovo marchio insomma, comunque, visto che mi è arrivata, volevo testarla e quale metodo migliore per testarla se non fare un bel tour della relazione aggiornato visto che è molto che non lo facevo Allora, in questo momento sto registrando in 4K a 30 frame al secondo, è tutto in automatico vediamo un po' come si sente l'audio, spero bene, perché altrimenti registro tutto per nulla sto registrando senza nessun microfono esterno e come si vede, qui in studio non è particolarmente luminoso insomma, è, diciamo, luce media, anzi, dietro poi ce ne sarà ancora meno, in realtà, di luce per cui vediamo un po' quanto si vedrà e la cosa figa di questa iCam è che hanno riaggiunto finalmente lo schermo dietro quindi posso vedere quello che sto registrando Allora, partiamo intanto dalla mia postazione un sacco di cazzate ovviamente però insomma, il computer principale è il mio nuovo iMac 5K sono super contento, c'è un paio di mesi, è numero uno ho ancora il mio vecchio MacBook Air 11 pollici lo utilizzo soprattutto in fiera o a casa, in giro, è comodissimo da portare in giro tastiera wireless ovviamente touch wireless che utilizzo con la mano sinistra ma con la mano destra assolutamente mouse da gaming con cavo, funziona sempre, è super veloce è veramente il top questo è un Deathadder Chroma di Razer ne ho avuti anche altro io vi consiglio se dovete lavorare insomma un mouse da gaming sono il top qui a destra tutto il reparto hard disk di vari tipi i due principali sono due dischi da 4TB che si backupano tra di loro poi c'è un disco in RAID 0 per le foto insomma ci sono varie robe un po' di smartwatch di vario tipo che sto testando che utilizzo il mio Nexus 5X che adesso è in carica è in questo supporto molto comodo con caricatore integrato il Nexus 9 scusate ho un inizio di raffreddore terrificante quindi scusate la voce e se tiro un po' su col naso però insomma faccio quello che posso qui c'è tutto quanto il reparto batterie della Canon e dell'Olympus con le batterie di fianco insomma i caricatori poi vabbè varie robe qui il pezzo del volo insomma tutte le vie minchiate è importante chiaramente averne sulla scrivania mi piace circondarne queste cose qua qui di prima che mai c'è la postazione di Pasquale oggi non c'è con il suo schermo le sue cose dietro la sua libreria poi di qua c'è la mia libreria che ha svariate cose un po' di Lego questo è un work in progress che vi farò vedere prima o poi e poi la mia collezione di Bimo di Adventure Time ce li ho quasi tutti tranne i due super rari maledetti fatti per il Comic Con di San Diego e il Comic Con di Seattle quelli sono veramente introvabili per cui faccio quello che posso insomma non voglio spendere 300 euro per un Bimo mi sto cercando di ripiazzare qua ecco poi dietro insomma vari bubble led mi piacciono tanto anche questo è un Funko Pop di Adventure Time questa è la statua in tradizione speciale di Overwatch che vi ho fatto vedere insomma nell'unboxing questo è il bellissimo construction set di The Walking Dead poi sotto un po' di libri questo prima o poi lo costruirò però per adesso rimane impacchettato questa è fantastica il mio computer ve l'ho fatta vedere in un video dedicato a un'enciclopedia stupenda sui computer degli anni 80 un Netrunner tanto per gradire le prime edizioni di World of Warcraft compresa la primissima edizione americana quando giocavo ancora e giocavamo qui in studio nella versione beta americana è questa qua sono molto orgoglioso un po' di minifigure particolari insomma questi vengono dagli scacchi Marvel e poi il set esclusivo per il lancio del del primo lego store in Italia questo qua fighissimo un po' di cose varie sinerequi insomma c'è tanta roba poi sotto altre cose varie Starcraft un po' di roba di magic insomma qui abbiamo Overwatch il recruit kit di Overwatch le badge di Doom insomma cose varie e questa diciamo è la parte frontale che sta sotto questo finestrone lo vedete che è inclinato e per cui a me ci piace chiamarla la fortezza delle scienze qui la redazione perché sembra di essere dentro appunto a una astronave no? qui questa qui è diciamo ci avete molta fantasia insomma come noi vi sembrerà di essere al comando di una astronave tra l'altro i vari insomma fuori i parasole si comandano da dentro elettricamente per cui si può chiudere lo scudo spaziale ma evito di continuare a parlare di astronave altrimenti mi prendete per matto e vi faccio vedere il resto il resto chiaramente inquadro un po' in basso non voglio spoilerare allora qui abbiamo un'area che è completamente nuova rispetto all'ultimo studio tour che ho fatto l'ho ricavata prima c'era una libreria qui che adesso l'ho spostata più a sinistra però ho guadagnato tantissimo spazio intanto qua sopra ci sono varie cose vari lego insomma chiaramente poi un sacco di libri di design di web design di programmazione miei e poi qui in basso qui in basso sono riuscito finalmente a trovare uno spazio per i miei mock lego in particolare i miei mock di il mio diciamo mashup tra i pirati e gli astronauti quindi tra lego space e lego pirates degli anni 80 non so se mi seguite sui social però ho postato tante volte questo mashup nel frattempo sto guardando che insomma questa camera funziona veramente molto bene mi sembra almeno qui sullo schermino sembra fare riprese incredibili inquadro anche i mac di cui sono veramente orgoglioso e anche il piccolo camminatore ma soprattutto l'astronave spaziale dei miei space pirates insomma sono qui come avrete intuito sono due mobili che è molto semplici con otto basi spaziali lego classiche poi qui dietro ci sono le due nuove sedie verdi che ho comprato da poco una appunto è destinata a questo nuovo angolo retro computing barra fai da te voglio solamente far vedere una delle due che l'ho tappezzata di adesivi veramente bimbo minchieschi però almeno così si differenzia dall'altra e poi c'è questo mobile nuovo questa scrivania che ho comprato usata nel classico mercatino quello dell'usato l'ho assolutamente un po' sistemata l'ho pagata a 30 euro quindi direi che questa scrivania qui è top gli ho attaccato un po' di adesivi insomma e questo qui è il mio angolo un po' anni 80 qui sotto ci sono dei contenitori di lego sono tutti quanti lego qui dentro divisi insomma per colore o per tipologia tutto il giallo tutto il grigio pezzi vari eccetera molto comodo sopra c'è una superficie per tagliare che è sempre comoda e poi in questo momento è temporaneo non è fisso comunque c'è il mio comodo 64 funzionante con di fianco un 1084s un bel albatross insomma il data 7 è tutto quanto funzionante adesso non sto accenderlo e sto un po' studiando vecchie cose insomma meraviglia e spero magari di fare un video dedicato al basic del 64 o qualcosa di simile sopra qui ci sono un po' di obiettivi sopra c'è tutto quanto l'angolo dedicato al fai da te che avete visto nei miei video appunto dedicati al fai da te l'abbiamo costruito insieme tutta questa parete mano a mano ho comprato i diversi accessori e li ho appesi poi alla fine nell'ultima puntata che ho pubblicato ovviamente che qui si sprecano svariate bubble head eccetera e questa cosa qui che adesso è nascosta dal 1084 in realtà è piena zeppa anche lei di lego di vario tipo anche qui un po' di lego un po' di teste di lego è importante avere tanti lego dappertutto fondamentalmente ma torno indietro quindi questo diciamo chiamiamolo è lo studio verde 2 l'avevo chiamato così ma c'è lo studio verde 1 quello classico che avete già visto mille volte che ha appunto aggiunto la sedia qui c'è la fila delle cose da da unboxare le prossime robe che arriveranno appunto l'e-camera c'è un lego lì dentro ci sono dei nerf e sotto ci sono due bilance di cui farò il confronto uno è di Xiaomi e insomma vedrete un po' sono bilanci smart arriveranno con i prossimi unboxing sopra c'è il mio mitico ormai leggendario tavolo bianco con la parete verde ho fatto questa mattina un video di tutte le cose che mi sono comprato la Star Wars Celebration sono ancora qui sul tavolo devo smontare un po' però mi torna utile perché insomma è bello farvelo vedere così qui davanti lo utilizzo poco ma c'è uno slider con cui posso muovere a sinistra a destra la camera per le riprese me l'avete chiesto mille volte utilizzo una mirrorless una Olympus OM-D E10 con un fisheye montato appunto che mi permette di fare quelle riprese che vedete sempre negli unboxing invece per mostrare gli oggetti un po' meglio c'è questa base rotante che ho comprato su Amazon con cui riprendo appunto gli oggetti mentre girano il tutto è illuminato da un paio di insomma ombrelli bianchi con dietro il neon e quest'altra cosa qua novità ho anche le basi finalmente le basi nera e bianca dietro di lei vediamo se riesco a farle scendere senza distruggere tutto direi di sì mi basta tirare la catenella che automaticamente scende o la nera o la bianca e quindi questa mi danno diciamo due basi bianche e nere alternative alla parete verde classica che avete imparato a conoscere qui dentro lo studio verde in modo tale che lo studio verde fondamentalmente possa diventare anche uno studio bianco o uno studio nero l'ho già utilizzato per fare delle foto lo utilizzerò anche come back dei video nuovi che magari arriveranno nelle prossime settimane nei prossimi mesi eccetera qui c'è il la libreria che prima era lì non sono ancora certissimo di questa disposizione spengo la lucia altrimenti la camera non ce la può fare e c'è un po' di tutto qui dentro c'è insomma la collector di overwatch la prima epic nerdbox una amiga 600 rivetenciata arancio da me il mio primo comadro 64 le vans nintendo ancora in scatolate insomma un giradischi brown un lettore cassette brown un sacco di scatoli un sacco di minchiate anche qua sotto il tavolo c'è un altro schermo sony là dietro c'è un g3 insomma ci sono varie robe e sopra ci sono tutte scatole le lego di roba che ho già costruito che ho messo via via funk pop e poi qua si comincia insomma torno indietro un attimo e questo è il mitico studio nero con tutti con tutti i suoi gadget possibili immaginabili una specie di museo dei nerd chiunque entra dentro la redazione perde almeno 5-10 minuti qui a guardare a bocca aperta c'è veramente di ogni cose regalate insomma durante i vari giri stampa oppure che semplicemente vengono dalla mia infanzia e della mia gioventù insomma cose comprate in giro c'è di ogni adesso non sto a dirvi pezzo per pezzo cos'è però vi faccio fare una panoramica di tutto quanto sono particolarmente legato a tutti gli oggetti che vedete qui questo è il primo piano in alto c'è una spada lì appesa al muro c'è la scacchiera della marvel insomma c'è il premio che abbiamo vinto al fisherman french e il guitar che si accende anche tra l'altro guardate che bello rosso c'è un riflesso terribile adesso ma ce la posso fare e insomma di ogni c'è il NES l'atari di 2006 Indiana Jones il film di Atlantis il primo Star Wars Galaxies il Mega Drive il Master System tutto in scatolato il cubo di rubric c'è un po' di tutto insomma Game Boy che collezione qui non sono tutti addirittura uno specchietto di giovanotti e poi dopo scendo giù qua c'è Dionio Tricky Traps un TIE Fighter insomma la prima cartolina del risveglio della forza qui sono dischi vari c'è True Survivor piuttosto che il disco speciale dei Phoenix uscito per Netflix insomma l'infradito di Netflix un View Master con dietro svariati dischi tra cui Thunderbirds un paio di cellulare a cui sono particolarmente legato questo è il mitico T28 i più vecchi di voi lo conosceranno insomma fantastico e questo è altrettanto mitico Motorola Raver no anche questo insomma un mito veramente e questo è il primissimo iPhone qua se non l'avevate mai visto questo è il primissimo iPhone uscito solo in America si poteva importare in varie maniere anche in Italia però bisognava fare l'unlock insomma chi l'ha fatto sa bene di cosa parlo varie spillette del making of di Harry Potter che abbiamo da poco visitato queste vengono queste sono carte speciali che vengono dal Comic Con di New York insomma tasti rotti da varie tastiere questo me l'ha portato rando dal Giappone qui c'è un Game Boy rovesciato questo è un pezzo di Sierra Tonante Sierra Tonante era sono state le montagne russe storiche di Mirabilandia erano in legno quando le hanno smontate l'hanno tagliato a pezzi insomma vendevano e regalavano diciamo i fan storici di Mirabilandia questi questi pezzi di Sierra Tonante fantastico sono particolarmente legati a quelle cose lì e poi insomma svariate cose un po' di Playmobil qui insomma i flamer i flamer di Lega Nerd stanno dando fuoco a un flame e qualche moderatore di Lega Nerd sta cercando di spegnere il flame ci sono un po' di droni piccolini questo è un battery bank di Fisherman Friends questo non svegliamolo perché rompe le balle in maniera incredibile Garbage Pail Kids questo viene da Lego per Pasqua come regalo e poi cos'altro libri 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 like questo è fantastico come l'amato sono dolci a forma di like di Facebook un sacco di cartucce poi dopo arriviamo anche alla parte dedicata al retro gaming e poi cosa i miei Starcom da cui sono super legato ce ne sono svariati di Starcom ma anche qua sotto ovviamente a me piacevano più i cattivi cartucce dell'intennio 64 altre cartucce dischetti dell'amiga cartucce 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 vecchi Wired dei primi anni 2000 americani ma anche i primi Wired italiani Create Online altra rivista assurda dei primi anni 2000 ma anche Digitalic con cui abbiamo collaborato in questi mesi negli scorsi anni ancora Starcom e poi qua sopra bellissimo il furgone Lego con dietro D&D quinta edizione tutti quanti manuali il mio amico cavallo froscio e poi cosa Lego ancora Adventure Time l'enciclopedia e poi insomma vari DVD regalati o mandati per la stampa World of Warcraft World of Drenor Special Edition qua dietro vari giochi libri cose varie questa non è mia di Francesco devo fotografarla da una vita Metal Gear Solid Collection dall'87 al 2007 per il ventesimo anniversario di Metal Gear Solid prima o poi ve la farò vedere per bene in foto poi qui sotto è tutto quanto storage ci sono varie robe vi faccio vedere solamente una che uso di solito che è il mio magazzino di magliette non sto scherzando è zeppo di magliette nerd di ogni tipo che quando mi serve magari fare un video qui in redazione particolare indossare una maglietta magari particolare insomma vengo qui mi cambio la maglietta per esempio questa l'ho presa al making of di Harry Potter binario 9 3 quarti mi sembra ottima ma sono tutte sullo stesso tema insomma c'è veramente di ogni questa viene questa l'ho indossata in un paio di video me l'avete vista la maglietta di Doom direttamente da ID quando abbiamo fatto un po' di promozione per loro ma insomma Destroy This Nerd c'è di ogni c'è di ogni dentro il mio archivio di magliette qui in redazione e direi che ho finito non ci riesco a rimetterlo dentro senza spaccare tutto ok gli altri sono cavi sono varie cose qui abbiamo l'attaccapanni della redazione Bricknout insomma il poster d'inferno tante cose e poi c'è tutto l'angolo della redazione rossa non è ancora finito insomma lo studio rosso come lo chiamiamo è tutto dedicato al retro gaming questa parte adesso c'è arrivo c'è una delle nostre due mitiche poltroncione che abbiamo portato anche Luca che immagino porteremo anche quest'anno super comode su cui facciamo le interviste oppure che sfruttiamo per rilassarci un po' davanti ci sono tutti i libri che avete visto nella serie Nerd Coffee Table c'è veramente di ogni qui li avete visti appunto nei miei video dedicati ai Coffee Table insomma tra virgolette da Nerd c'è di ogni vedete poi qui su questo pallet tra l'altro ha una storia particolare perché è il pallet che abbiamo utilizzato nella nostra super trasferta con lo studio di cui faccio parte a Gamescom e sopra c'erano appoggiate varie robe quando ci hanno rispedito indietro è tornato il pallet non volevo separarmene per cui gli ho montato quattro ruote rosse ed è diventato insomma il Coffee Table qui in redazione le mele che non devono mai mancare sono malato di mele mi piacciono veramente tanto e poi qui davanti una super collection di controller di ogni tipo la maggior parte è collegato ovviamente alle relative console ma ci sono anche controller diciamo stand alone senza la console collegata io sono insomma a me piace diciamo che sono un appassionato di controllere come i controller delle console sono evoluti nel corso degli anni ogni volta ve li faccio vedere perché secondo me insomma sono un po' la storia del videogame non sto adesso a parlarne troppo però ci serve veramente da parlarne per delle mezz'ora magari prima o poi farò un video dedicato questi sono cataloghi cinema che vengono dall'ultimo cinese 2016-2017 tutti i film che usciranno nei prossimi 18 mesi interessante li stavo guardando l'altro giorno poi vado qui davanti vi faccio vedere un po' le console al volo quindi abbiamo tutta la Nintendo NES Super NES Nintendo 64 e Gamecube con un paio di 2006 li appoggiati abbiamo il Master System 2 lì qui c'è la prima Xbox qui ci sono due PlayStation 1 qui c'è una PlayStation 2 poi qui c'è un 2006 a cui sono particolarmente legato è la prima edizione 6 tasti con un cuberto dentro qui c'è una TV standard CRT 4 terzi che è l'unico modo per giocare bene con queste console qua con sopra una bella sciarpa dei serpe verde per cui ovviamente a noi qui in Lega Nerd piacciono i serpe verde tac presa ai Warner Bros. Studios questo è uno switch comodissimo che serve per switchare tra le tre console principali di Nintendo questa l'ha fatta la Sara ciao Sara bellissima lampada appresa l'ultima sta tosta fatta in casa ma stupenda e poi qui di fianco c'è questo mobile che contiene svariate robe più che altro di stoccaggio batterie vecchie borse adesso non sto a farvi vedere ma sopra c'è un bellissimo primo Master System con dentro Wonder Boy e un bellissimo primo Mega Drive poi c'è la prima edizione di Super Mario Bros per Ness questa è una dei poster nell'edizione limitata di Deadpool messa in quadro un numero speciale di orfani che usciva con multiple edizioni un po' di giochi per il Master System poi c'è il nostro amico trooper di redazione e poi c'è tutta la parete con tantissima roba un sacco di orologi il poster di console war non so surfing at your own risk questo viene da un direttamente dagli anni 80 lo rubai quando chiusi un negozio di console là sopra abbiamo il Nerf Modulus di cui abbiamo fatto l'unboxing e insomma le spade di Adventure Time un'altra spada di Adventure Time una racchetta da tennis un po' di dischi anche un po' di fumetti che vi faccio vedere al volo il primo numero di Ratman comprato all'epoca da me ho scoperto poi di recente che vale un sacco di soldi non pensavo assolutamente o anche tutti gli altri comunque il primo l'ho messo dentro una cornice o Sudo mitico numero uno questo lo conosceranno in due ma insomma è super famoso per quanto mi riguarda e poi il numero speciale di Jessica Jones numero uno uscito e regalato durante il Comic Con di New York dell'anno scorso un paio di poster fatti in occasione diciamo per il terremoto di Fukushima fatti da due amici Rando e Dennis Medri e poi qui davanti insomma chiaramente Adventure Time di cui sono un mega fan ma aggiungerò altre cose perché dopo l'ultima celebration devo aggiungere assolutamente almeno un nuovo fumetto che appunto Leia è un nuovo disco per forza torno qua c'è una collezione completa di Adventure Time uscita con McDonald contro luce però più o meno così vedete anche la qualità della camera mi rifaccio indietro mi sembra tutto molto piccolo però spengo anche le luci così facciamo un test finale di come riprende questa camera senza luci solamente luce diciamo solare ed ecco qua diciamo tre quarti della redazione quindi lo studio sto chiudendo ragazzi lo so che vi ho rotto le balle studio verde 2 studio verde 1 lo studio nero lo studio rosso due librerie e le due postazioni principali della fortessa delle scienze qui come la chiamiamo insomma ragazzi mi sembra che questa Xiaomi i camera 2 riprenda molto bene è un video in 4k lo metto su youtube adesso me lo guardo con calma sul computer ci vediamo al prossimo video al prossimo tour della redazione ciao ragazzi continuate a seguirci leganerd.com facebook.com slash leganerd ciao